Un cordiale saluto ad una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze ci sono code tra Sesto Fiorentino e Firenze per Itola e code a tratti tra Prato Ovest e Livio per la 1. Sulla Fipili per lavori tra Firenze e Firenze Scandici in direzione mare restringimento di carreggiata. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori scambio di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la A1 di Firenze in Pruneta. Sulla regionale 69 Valdarno senso unico alternato per lavori al chilometro 1,700 nel comune di Pelago. La viabilità cittadina a Firenze per scavo urgente via del Campuccio è chiusa tra Piazza Tasso e via dei Serragli. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!